Questo episodio è un fuori programma. Avevo previsto di parlare di questo argomento, ma molto più avanti. Alcuni giorni fa però mi sono trovato coinvolto in una discussione su Twitter che mi ha lasciato molto perplesso. Si partiva da una notizia di cronaca che non ha in sé molta importanza e nel merito della quale non entro nemmeno perché 1. Non conosco direttamente la storia. 2. Non si fanno diagnosi a distanza. 3. Non si fanno diagnosi al di fuori di un setting. E questo sempre. Ho fatto quindi delle considerazioni di carattere generale parlando soprattutto di come questa notizia era stata recepita, al di là del fatto stesso. Dalle risposte che ho ricevuto mi sono reso conto che a molte persone sfuggono ancora alcuni concetti che ci toccano molto da vicino e ci riguardano anche nella nostra quotidianità, pure quando non ce ne rendiamo conto. Cosa sia un disturbo neurotico? Quale sia la differenza tra salute e malattia? Quale invalidità procuri un disturbo mentale di questo genere, cioè neurotico, e in quale misura? Il tema, come dicevo, andava affrontato più avanti perché bisognerebbe porre tutta una serie di premesse sui concetti di salute e malattia. Questi concetti intuitivamente sembrano semplici, in realtà quando cerchiamo di definirli con esattezza entriamo in un ambito molto complesso, su cui sono stati scritti anche fiumi d'inchiostro. Faccio prima a farveli vedere, insomma bisognerebbe leggersi questa roba qua, non abbiamo tempo. Oggi ci dobbiamo accontentare quindi di una riflessione incompleta, superficiale, circoscritta e speriamo non troppo confusa. La domanda che ci poniamo in termini molto generali è può una persona affetta da un grave disturbo neurotico ricoprire incarichi di responsabilità? La domanda che ci poniamo in termini molto complesso, è vero, è vero, è vero. La domanda che ci poniamo in termini molto più, è vero, è vero, è vero, è vero. La domanda che ci poniamo in termini molto complesso, è vero, è vero, è vero, è vero, è vero. In molti casi la persona nevrotica si vergogna dei propri sintomi e tende quindi a nasconderli o a dissimularli. Questo è particolarmente vero per gli ossessivi che vivono il sintomo come qualcosa di sgradevole, di intrusivo, di indesiderato e anche di estremamente vincolante. Inoltre hanno paura, visto che molti di questi sintomi appaiono a loro per primi, completamente irrazionali, di essere presi per matti. Vai a torto. Il sintomo nevrotico, e qui condenso 120 anni di psicoanalisi in una frase, quindi perdonatemi, è l'espressione di un conflitto che la persona non è riuscita a sciogliere. Per scaricare la tensione in eccesso, la psiche le fa seguire quindi una strada meno faticosa ed indipendente dalla coscienza, una strada di tipo simbolico. Questo spiega anche la apparente irrazionalità del sintomo, che in realtà ha un significato, solo che essendo un significato simbolico non è un significato chiaro. L'uomo, diceva Freud, rinuncia a un po' di libertà in cambio di un po' di sicurezza. Una fobia, ad esempio, restringe il mio campo d'azione, ma in compenso mi fa sentire, all'interno di quel campo d'azione, più tranquillo. Ovviamente il discorso è più complicato di così, però per il momento ce lo facciamo bastare. Quello che ci interessa è che un nevrotico non perde affatto il contatto con la realtà, non è affetto da un deficit intellettivo, non perde affatto le proprie competenze. Ci sono effettivamente dei casi in cui alcune professioni richiedono che venga certificata l'assenza di questa o di quella condizione morbosa. Queste patologie però raramente hanno a che fare con la sfera nevrotica, perché un disturbo nevrotico ha una sua precisa delimitazione. Se questa delimitazione non si sovrappone al compito richiesto, la persona nevrotica in questo non è diversamente abile da chiunque altro. Per fare un paragone somatico, che forse è più facile da capire, non c'è ragione per cui un paraplegico non possa lavorare come programmatore. Subisce sì una limitazione della libertà, ma questa non interferisce minimamente con tutte le sue altre competenze. Facciamo a questo punto un altro esempio. Ci faremmo operare più tranquillamente da un chirurgo che ha bisogno di raddrizzare i quadri e che controlla dieci volte se ha chiuso il gas prima di uscire di casa, oppure da un chirurgo che è al termine di un doppio turno perché l'ospedale non ha personale, sta divorziando dalla moglie e ha problemi di soldi. Il paragone sembra improprio, ma non lo è tanto, perché la differenza tra queste due ipotetiche persone è nel fatto che alla prima attribuiamo un carattere patologico e quindi ci preoccupa quello che può fare, mentre la seconda la consideriamo normale e non ci preoccupiamo delle sue condizioni mentali. Per avviarci alla conclusione, la platealità di un sintomo non necessariamente corrisponde alla gravità di una condizione morbosa o alla capacità di assumersi delle responsabilità. Il concetto di salute, soprattutto di salute mentale, è molto più sfumato e incerto di così. Non sappiamo mai cosa vive nella propria sfera privata, intima, il nostro prossimo, nel bene e nel male. L'equazione sintomo evidente, uguale follia, uguale invalidità, è sbagliata così come quella assenza di sintomi evidenti, uguale salute, uguale capacità. Non funziona in questo modo. E noi per primi siamo sempre sottoposti, anche in assenza di sintomi specifici, a stress, momenti di scarsa lucidità, di difficoltà, impulsi o pulsioni che non riusciamo a tenere sotto controllo. Quindi dovremmo fare molta attenzione prima di chiedere una certificazione della salute mentale di qualcun altro, perché potremmo avere poi delle sorprese piuttosto sgradevoli quando si mette in dubbio la nostra di salute mentale. The Aviator è uno dei pochi film che descrive una persona affetta da nevrosi ossessiva senza romanticismi e senza enfasi e con un grande rispetto del personaggio. La malattia è parte della storia di Hughes, mai la protagonista. Ma ne riparleremo. Grazie. Grazie. Grazie.